è un'applicazione per cercare di velocizzare l'ufficio e l'ente pubblico nei riguardi delle imprese soprattutto innovative si tratta di un modo per essere più vicini a loro perché attraverso questa app è possibile velocizzare le procedure di rendicontazione conoscere quali sono i documenti la documentazione gli obblighi che si devono seguire per poter rendicontare correttamente quindi questo consente alle imprese di avere i saldi e salda rapidamente e all'amministrazione di certificare perché si tratta in genere di fondi europei questo lo abbiamo fatto adesso sulla programmazione attuale ma l'obiettivo è di implementare questa iniziativa sulla nuova programmazione considerando che dall'anno prossimo inizia il nuovo programma europeo l'iniziativa è partita da poco però abbiamo un buon campione perché si tratta di 80 startup che sono che sono entrate nell'ultimo avviso fatto sul fondo sul PORFESR e già verifichiamo diciamo di una maggiore rapidità e minori domande minori necessità da parte delle startup di avere chiarimenti perché quest'app vuole essere una sorta di funzionario a portata di mano